Musica 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 Possiamo cominciare con la preghiera in vocazione allo Spirito Santo Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Vieni Spirito Santo Mantua a noi dal cielo un raggio della tua luce Vieni Padre dei poveri Vieni Datore dei doni Vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto Ospite dolce dell'anima Dolcissimo sollievo Nella fatica riposo Nella calura riparo Nel pianto convorto O luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli Senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa Lava ciò che è sordito bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona ai tuoi fedeli che solo in te convidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna Amen Andriamo in questo incontro con colui che si rivele e ci manifesta ci manifesta quelle che è la nostra vita la nostra storia ma ancora di più ci manifesta la storia di un Dio che ama il suo popolo Questa stretta relazione ecco ci predispone a vivere un'amicizia particolare Noi dobbiamo fare degli sforzi per superare ecco certe idee che sono state così inculcate per secoli quando il passaggio ecco da una chiesa profetica ad una chiesa istituzione una chiesa legalistica legata a quella che è anche il diritto ci ha fatto perdere questa relazione amicale questa relazione significa che Dio è forte parentale possiamo dire con il nostro Dio oggi che stendiamo il bisogno di riscoprire questo tipo di relazione allora dovremmo fare un piccolo sforzo anche mentale come entrare in relazione con Dio come porci di fronte o a fianco a questo Dio che si rivela ci ha manifestato la parola il Logos ci ha manifestato un padre quindi facciamo un passo ulteriore non solo ecco un amico benevolo ma qualche d'uno che è accompagnatore guida che ci sostiene anche lungo questo cammino molto faticoso e difficile che stiamo vivendo liturgicamente siamo arrivati alla ventesima ventiseesima domenica del tempo ordinario è il brano che mangeremo è il capitolo ventunesimo di Matteo i versetti ventotto trentadue proviamo ecco a guardare questo capitolo ultimamente ogni domenica stiamo leggendo solo una parte dei capitoli stiamo facendo una lettura non continua ma semi continua ma anche è bello contestualizzare questo brano nel suo contesto nel suo ambiente così come ci viene narrato da Matteo voi vi ricordate come tutto il Vangelo di Matteo è formato di questi cinque discorsi capitolo ventunesimo Gesù arriva a Gerusalemme noi stiamo sempre dicendo che la sequela di Cristo ci porta a Gerusalemme Gesù ha come progetto ecco di arrivare a Gerusalemme e lì compiere quelle che è il compiacimento del padre nel dono totale di se stesso e chi vuole essere discipolo entra in questa bellissima dimensione donante della propria vita a servizio degli altri è chiaro che entrando a Gerusalemme ci ricordiamo noi lo commemoriamo lo celebriamo nella Domenica delle Pan quindi c'è un entusiasmo della folla per accogliere questo novello preferito questo Messia Gesù ecco non si presenta molto bene andrando a Gerusalemme nella sua visita al Tempio manifesta una forza una possiamo dire una nota rivoluzionaria quella che è la tranquillità la stabilità la fermezza di un popolo la garanzia ecco di un popolo che è il suo Tempio Gesù fa questo atto rivoluzionario cacciando i venditori dal Tempio poi c'è tutto il discorso diciamo anche della questo Tempio che era ormai l'istituzione ecco noi abbiamo fatto tutto il possibile per ritornare a questo tipo di fede o di religiosità istituzionalizzando tutto diceva l'altro giorno se voi vi avvicinate alla Chiesa e volete comunque ecco ricevere la grazia o qualche sacramento la prima cosa che si chiede è il certificato di battesimo le carte per il matrimonio l'attestato di idoneità a fare da padrino vedete tutto ciò che è vita e profezia l'abbiamo codificato pensando che in questo modo tutta la vita si sarebbe potuto trattare norme e regole la norma e la regola è utile ma a volte diventa una cabbia abbiamo riportato ecco quella religiosità che Gesù ha incontrato e che ha cercato di far saltare per stabilire per manifestare questa relazione di padre e figlio e di figlio verso il padre noi l'abbiamo riproposto per cui da una chiesa profetica siamo entrati solamente in una chiesa profondamente giuridica la norma la regola tutto è basato su questi comandamenti ciò che è rivelazione Dio manifesta la sua nerezza e il suo amore noi l'abbiamo fatto diventare per noi un'obbliga di osservanza abbiamo tante volte detto che il vero e giusto atteggiamento così come ci viene dal Vangelo è l'accoglienza è la disponibilità l'immagine l'icona è Maria ma anche la madre terra che è disponibile ad accogliere e generare l'accoglienza non è una conservazione noi abbiamo generato questo abbiamo creato i silos i magazzini per conservare la terra accoglie per generare questa è la bella relazione che abbiamo con Dio nostro Dio non ci vuole fare dei magazzinieri o dei magazzini nostro Dio vuole donarci la capacità di generare la vita che è mia madre chi sono i miei fratelli vi ricordate? la madre ecco lei che genera chi accoglie la sua parola e la mette in pratica diventa madre c'è capace di generare anche questa particolare che ci ha altre volte sottolineato noi abbiamo messo da parte quelle che è la struttura la realtà del logos della parola e della rivelazione riempendoci di commenti che ci allontanano dalla parola allora qui ritorna il nostro impegno ad una lettura sapienzial popolare semplice così come allora poi troviamo come secondo fatto di questo capitolo in unesimo terzo fatto perché secondo Gesù scaccia il venditore del Tempio la condanna dell'albero stela anche qui c'è una noto particolare ma poi la contestazione ecco dei sommi sacerdoti del sommo sacerdote dei sacerdoti del Tempio dei maestri della Torah con quale autorità Gesù ha fatto questo e quindi c'è tutta una discussione dopo questo avvenimento abbiamo la parabola dei due figli ed è il brano che leggeremo questa sarà il brano di questa domenica e seguirà nella continuità di questo capitolo ventunesimo la parabola dei contadini omicidi come sempre noi amiamo ecco entrare in un approccio diretto con la parola e andiamo c'è il Vangelo preparato la nostra Sir Silvio molto brava nel fare queste cose lei proclamerà e noi insieme a lei questo brano questo brano che comprende i versetti 28 32 è preceduto dal versetto ecco 23 perché la Chiesa oggi ecco ci fa entrare tutto questo avviene perché Gesù sta parlando nel Tempio con i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo quindi possiamo leggere la pericope dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo che ve ne pare un uomo aveva due figli si rivolse al primo e disse figlio oggi va a lavorare nella vigna ed egli rispose non ne ho voglia ma poi si pentì e vi andò si rivolse al secondo e disse lo stesso ed egli rispose sì signore ma non vi andò chi dei due ha compiuto la volontà del padre risposero il primo e Gesù disse loro in verità io vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto voi al contrario avete visto queste cose ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli parola del Signore lode a Teo Cristo bene come vi dicevo allora questa pericola è preceduta dal versetto ventitresimo in quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e anziani del popolo ecco questa parabola manifesta una come dico sempre una delicatezza verso queste persone che non riuscivano ad accogliere ad accettare ecco questo profeta che comunque faceva saltare i loro schemi questa è una frase redazionale che non c'è nel testo evangelico in quel tempo Gesù disse il lezionario includa nella pericope il versetto ventirei che ci ricorda come Gesù stia parlando ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo sono questi i rappresentanti ufficiali del popolo e i maestri della fede sono coloro che dovevano vigilare come sentinelle sul popolo in attesa del messia i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo rimproverano il giovane maestro di Galilea e gli chiedono conto del suo gesto di cacciare i mercati dal tempio compiuto senza alcuna autorità perché fai queste cose come se avessi il potere di comandare e riformare la struttura religiosa vedete questo è il grave come dire oggi chiamano gap no la difficoltà per gli ebrei di quel tempo la garanzia la stabilità la sicurezza della tradizione e anche l'espressione del tempio li faceva stare tranquilli e vedete come è simile anche all'attuale situazione no anche la chiesa ha creato i suoi templi ha generato anche i suoi riti ha favorito le sue prescrizioni norme e canoni pensando di stare tranquilla oggi avviene qualcosa di veramente straordinario e sconcertante bastato un virus per far saltare tutti gli schemi noi stiamo cercando in tutti i modi di recuperare le forme i riti preoccupati quando fare la comunione quando fare la crisi ma come fare per i matrimoni vi ricordate la prima nota ecco che dal consiglio dei ministri era quella di i funerali la preoccupazione era dei funerali come se tutta la fede ecco è legata solamente alle sebe come fa all'entrare o non entrare 15 persone vi ricordate questa è la storia di oggi la storia di oggi e la nostra preoccupazione ancora è sugli schemi rispettare gli schemi no pensando ad una catechesi formale che in realtà non dice niente nessuno allora con quale autorità ecco possiamo dire a questo coronavirus è venuto a farci saltare gli schemi sia di ordine io dico globale no naturale la natura sia in ordine antropologico stanno saltando tanti schemi sia di ordine sociale con quale autorità è l'autorità della conversione basamento di questa come dire di questa pericope è la conversione noi andremo a vedere andremo a vedere come c'è proprio questa parola particolare anche se non detto molto esplicitamente che cambia la situazione chi ti ha dato chi crede di essere chi ti ha dato questa autorità con questa attesa in questo contesto ecco noi ci avviciniamo a Gesù che ci rivela qualcosa di enormemente straordinario apre il versetto 28 con questa espressione ti de io min do quei che ve ne pare che ve ne pare e qui racconta questa parola un uomo aveva due figli si rivolse al primo e disse vedete che cosa disse figlio oggi va a lavorare nella vigna troviamo nuovamente ecco questo luogo possiamo chiamarlo anche teologico no la vigna la vigna vi diceva nella parabola precedente degli operai nella vigna come è il luogo della presenza dell'alleanza la vigna produce il vino produce l'uva per il vino che è il segno dell'alleanza è luogo anche della ledizia della gioia quando c'è la vendemmia c'è un'esultanza c'è una festa e tutta la comunità che vive la come dire l'ibrezza di questa festa vi diceva anche la volta scorsa come questo padrone non è interessato al profitto che può ricavare il lavoro di questi operati che li manda a qualunque ora ha una preoccupazione una premura di mandare queste persone a far parte di quella vigna la vigna diventa l'icona della chiesa l'immagine ecco di quello che è il regno di Dio per cui è qualcosa di importante questo padre questo uomo ha due figli e ci tiene che i suoi figli entrano nella vigna vivendo il lavoro per la vigna entra nella vigna per essere ministri quelle che noi oggi ecco non riusciamo a fare noi nelle nostre comunità ci sono alcuni che fanno le cose per gli altri quelle che io dico la sindrome del sacrista no? fanno le cose per gli altri no? qui entrare nella vigna essere membro di quella comunità vivere nel servizio verso gli altri perché la vigna come la madre terra che accoglie insieme è capace di generare la vita capace di generare si rivolse ecco al primo qui troviamo non è proprio la parola si rivolgersi in greco è proselton è una avvicinarsi per accompagnarlo per dire ecco dialoghiamo un po' insieme è un gesto praticamente molto affettuoso questo papà si rivolge a lui e lo chiama figlio tecnon da ticno che significa partorire generare c'è qualcuno che è stato generato quindi ha tutto il diritto di andare nella vigna e vivere nella vigna a tutti i diritti far parte possiamo dire ecco di questo regno e gli disse figlio oggi oggi semeron non domani non un altro momento è l'oggio della vita di ognuno di noi è quell'oggio che ci fa presente l'eternità è quel tempo che non finisce anzi apre l'eternità oggi va a lavorare ecco nella vigna va lì perché questo bene che è l'alleanza questo vino quest'uva che diventa poi vino sia veramente il sostegno e il coordinamento la comunione tra gli uomini quindi c'è anche una missione possiamo dire battesimale sacerdotale di questa persona ed egli rispose oh te lo non voglio non voglio non ne ho voglia ma poi qui c'è la metanoia no? si pendì e vi andò è molto importante questo passaggio per una dimensione edigo organica e lettura sapenziale di questo testo è importante perché c'è un passaggio quello che è l'uomo comune quello che è l'uomo quello che è l'uomo del tempo quello che è l'uomo della piazza quello che è l'uomo dello smarimento e del divertimento quello che è l'uomo a cui non riesce a dare un senso alla vita ciò diventa poi un uomo pieno no? di risorse ma diventa smarrito e lui lì no? è presso dalle cose del tempo non riesce a staccarsi la nostra evangelizzazione deve procurare questa questo taglio deve procurare una maturità di scelta di scelta non un'osservanza di regole ma una maturità di scelta perciò il Papa vi sto citando continuamente questo discorso diceva questo è il tempo di fare scelte questo tempo è un tempo che ci provoca è un tempo che ci interroga è un tempo che ci sfida per cui siamo chiamati a fare delle scelte vuoi continuare a vivere nel tempo schiavo della corruttibilità della frammentarietà della divisione vuoi continuare oppure vuoi entrare a far parte del regno dei sceli noi abbiamo un bonismo alla base nella nostra dimensione ecclesiale dove tutti possono entrare e possono uscire entrano escono non entrano mai troppo bene non si trovano bene perché volevano volevano qualche altra cosa no qui è entrare questo è un passaggio battesimale l'entrare nella vigna è il battesimo dove c'è una metanoia un cambiamento radicale ecco della propria mentalità si diventa i ministri del regno si diventa operai della vigna e si diventa compiacimento del padre vi ricordate nel battesimo il servo nel quale ho trovato il mio compiacimento quindi è fondamentale questo passaggio questa metanoia no? questo cambiare mentalità è fondamentale io non voglio ma in seguito cioè è entrato in sé si pente e cerca enormemente ecco di cambiare completamente rotta allora vedete come tutto questo passaggio si manifesta come una vera immersione un passaggio una Pasqua si rivolse al secondo e disse la stessa cosa come l'ha chiamato il primo figlio come l'ha chiamato figlio va a lavorare nella vigna dice la stessa cosa anche al secondo figlio si rivolge al secondo dice lo stesso ma essi egli che cosa risponde egli risponde io signore sì sì signore è bella questa espressione che noi ma nessuno di noi a papà a mamma risponde sì signore una volta quando c'era anche una rigidità educativa si cercava di dare vuole ai genitori ma signore proprio mai noi l'abbiamo poi fatto diventare un linguaggio comune questo io sì io non è luc no il no precedente ma è un sì che si rivolge ad un altro che non lo chiama padre non dice sì padre dice sì signore ego curie sì ma non andò ecco ecco questa è la cultura dell'apparenza di cui tutti quanti noi siamo completamente pervasi sia nella società sia nella famiglia sia nella chiesa tutto un far vedere un dire sì ma e pensare diversamente come è triste no vedere uomini di chiesa che dicono sempre un'altra cosa di quella che pensano terribile terribile non riusciamo a creare relazioni autentiche perché alla base c'è questa rappresentazione far vedere come in questo tempo io sto toccando con mano tutto questo anche tra i sacerdoti anche tra i suori anche tra i laici che vanno in chiesa è tutto un far vedere si è sempre amici noi diciamo una volta compagniella commilitone camerata no? si è ma non si diventa ecco persone di comunione diventa difficile perché la comunione presuppone la perdita di te stessi comporto una metanoia un cambiamento radicale un andare oltre a quella che sei ma noi ci teniamo ad affermare noi stessi andare oltre diventa molto complicato per cui è importante si signore come no signore ma quello è tuo padre quello è tuo padre non ti chiama non ti tratta da sé un po' ti sta mandando a vivere l'esperienza più bella quella dell'unità e lo spirito ecco di una comunione quel simbolo che poi diventerà il calice segno di alleanza ma poi non andò e qui ecco che ve ne pare ritorna secondo voi chi dei due ha compiuto la volontà del padre allora noi nella preghiera bella di Gesù diciamo sia fatta è una preghiera non è un'imposizione c'è una come dire un ottativo no c'è un desiderio c'è una supplica perché il nostro comportamento sia compiere la volontà del padre nella volontà del padre c'è la vita avete mai letto l'avete in genere questa espressione nella volontà di Dio c'è la vita questo papà questo padre non è un padre che deve raggiungere un certo profitto vi ricordate la parabola precedente questo papà deve rendere generativo questo figlio capace di generare che è la cosa più importante che può avere un uomo o una donna la capacità di generare noi tutti noi tutti siamo chiamati a generare la vita a generare la vita che viene da Dio papà manda questo fare la volontà di Dio e entrare in questa nota generativa di Dio che si rivela a noi come un papà come un padre Gesù Cristo che si rivela a noi come un figlio e come nostro fratello ma è fondamentale questo aspetto generativo chi dei due ha entrato in questa relazione generativa con il padre risposano il primo quello che ha detto non ho voglio utelo no? non ho voglia ma poi va nella entra nella vigna Gesù sta parlando con ricordate il versetto 23 capi dei sacerdoti e gli ha detto ai lavori insomma che conoscono molto bene scrive i parisei vedete che frase terribile nella sua drammaticità possiamo dire nella sua assurdità secondo il concetto giuridico che abbiamo anche di Dio perché dalla Chiesa l'abbiamo portato su Dio inconcepibile no? nel Vangelo Gesù dice questa frase enorme in verità e qui sapete molto bene no? lego iumin in verità cioè c'è una rivelazione forte significativa che cosa vi dico pubblicani e prostitute vi passano avanti nel regno di Dio e qui si capisce un'altra cosa ancora più bella il pubblicano è un peccatore pubblico la prostituta è una peccatrice pubblica di un oscio no? queste persone non devono fare uno sforzo a entrare nel loro peccato perché tutta l'ambiente tutti con i loro giudizi li mettono li mettono nella coscienza del loro peccato perciò è più facile che si convertono loro che non si converte un sacerdoto o una sola è più facile una persona che si sente tutto appagato perché fa tutte le osservanze di questo mondo si attiene a tutte le regole alle prescrizioni alle norme così come venga dal diritto canonico non sentirà mai il bisogno di convertirsi e se non si converte non può dire quel sì la conversione è un'opera del padre è un'opera di Dio quest'opera di Dio ci fa dire quel sì non è un'opera delle persone noi abbiamo fatto diventare la conversione l'impegno l'impegno massa grande talvolta anche devastante psicologicamente quante persone sono uscite fuori di testa dopo un lungo periodo di mal di pancia e di stomaco che si sono avute nei convegni nei seminari nell'area diciamo anche religiosa perché? perché si è afferrato tutto ecco con questa voglia ecco pelagianesimo alla base che vuole ecco fare lo sforzo di conversione la conversione è un dono di Dio è un dono che tu accogli unicamente se sei un pubblico peccatore se ti ritieni peccatore se tu entri in una dimensione di luce che la parola di Dio ecco ti dice ti fa vedere che tu sei un povero peccatore ed è facile che un peccatore si converta per cui è facile che riesce a dire quel famoso sì ma chi non è non si sente peccatore per cui quello che dice Gesù è di una verità unica anche se è drammatico ma è la cosa più vera e più possibile perché un pubblicano e noi abbiamo visto qualche giorno fa Matteo Levi che era un pubblicano viene portato come modello ecco di uno che lascia tutte ma lo stesso Zaccheo se vi ricordate capo dei pubblicani e ricordatevi come queste persone erano invise erano proprio come dire schifate dal pie israelite perché perché sottoponevano obbligavano il popolo a dare un tributo a non il loro Dio quindi riconoscere nell'autorità degli uomini una certa importanza che ormai avrebbero potuto accettare i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio e anche questo fatto pensare che avanti dietro no per dire che vanno prima di noi entrano arrivano prima di noi arrivano e non è c'è questa un'espressione iperbolica cercare di mostrarvi che è un fatto ovvio come non è iperbolico che uno che si sente convertito non si convertirà mai si può riempire un secchio pieno si può riempire e già è pieno e qui Gesù fa suo riferimento a Giovanni Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia Giovanni ha cercato con la predicazione di far entrare nel giusto ruolo ogni uomo predicando una predicazione ecco di penitenza no che dice convertiti convertiti guarda bene la tua vita e non gli avete creduto i pubblicani e i prostituti invece gli hanno creduto voi al contrario pur avendo visto queste cose quindi diventa ancora un'altra situazione drammatica pur avendo visto queste cose non vi siete nemmeno pentiti per credergli a Giovanni diciamo è tutta una conseguenza non si può ecco assolutamente fare questo passaggio se appunto non si aprono gli occhi vedete una delle cose più importante che abbiamo letto anche nel Vangelo che il Messia è venuto a dare la vista ai ciechi Gesù guarisce due ciechi no? e dare la vista e aprire gli occhi e far entrare nella propria storia poiché noi dobbiamo come diceva qualche autore no? la vita è come un palcoscenico no? come un palcoscenico noi dobbiamo tutti stare davanti sopra il palcoscenico ma ci mettiamo dietro non si capisce niente no? una posizione enorme ci dobbiamo mettere l'abito per recitare il ruolo quando ci rapportiamo alle persone io vedo com'è faticoso non essere se stessi ma tranquillamente se tu non fai vedere che comandi che sei importante che puoi garantire ma nessuno ti guarda infatti io questa grazie a Dio lo sto sperimentando cominciando dai più piccoli fino ai più grandi quando tu manifesti quello che realmente sei quello che sei povero uomo la portano quindi che il mondo non ti apprezza allora che cosa noi dobbiamo fare? pur vivendo un'esperienza ecco diciamo di conversione dobbiamo comunque apparire in un certo modo dobbiamo apparire intelligenti dobbiamo apparire brillanti dobbiamo apparire capaci dobbiamo apparire il mondo vuole questo vuole delle apparenze dei fantasmi Gesù ci mette nella verità di fronte a quelle che è ecco il battesimo no? ci mette in un passaggio meraviglioso straordinario che cambia radicalmente la nostra vita quante volte abbiamo detto partiamo dal battesimo per un cambiamento radicale della nostra esistenza perché è lì lì che noi capiamo la bella distanza ma anche possiamo dire l'angora che il Signore manda no? tra noi è Dio tra noi è Dio Giovanni ha fatto questo e ciò c'è questa citazione no? messo questo popolo ecco ha preparato questo popolo per raccogliere questa angora di salvezza ma facendo entrare il popolo nella giusta dimensione la reale dimensione questa situazione è particolarissima che stiamo vivendo perché noi ogni tanto cerchiamo facciamo finta che stia passando poi basta poco eh? che subito dici mamma mia non è passata ancora che altro dobbiamo aspettarci? eravamo entrati in una società perfetta eh? una società di benessere che non ho mai visto di benessere di grande conquista di grande ricerca no? cose che hanno fatto anche del bene però hanno generato anche una società capace di creare le forbici no? questa apertura questa distanza tra i pochi ricchi e molti poveri una situazione sociale di gravissima eh dimensione poiché i potenti stavano bene pensavano di stare bene tutti quanti noi abbiamo fatto il possibile per diventare potenti pensavamo di stare bene in un mondo malato dice il Papa no? come è possibile come è possibile abbiamo bisogno ecco di ritornare di ritornare a che cosa? dicevo prima alla relazione interpersonale ad una liberazione di quella forte eh straordinaria dimensione di egolatria no? di un io che si chiude nel proprio castello e rompendo ogni tipo di rapporto se non di eh dominio ne abbiamo generato le strutture e le istituzioni unicamente per manifestare e gestire un potere Gesù Cristo è venuto a darci la giusta e vera dimensione del servizio e questa parabola che Gesù si rivolge per un'ennesima eh delicatezza nei confronti scrivi i farisei i dottori del tempio i capi dei sacerdoti perché loro che sono i figli il popolo è eletto è il vero olivo noi altri siamo l'olivastro ma è un olivo sradicato dalla vigna dal terreno finisce secca soffre terribilmente abbiamo bisogno ecco di recuperare tutto questo perciò con tanta fiducia preghiamo la colletta o padre sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori appena si dispongono a pendirsi di cuore anche qui faccio una nota vedete queste sono ancora collette che fanno riferimento ad una mentalità precedente appena si dispongono a pendirsi di cuore accolgono ecco non è uno sforzo nostro ci disponiamo non ci disponiamo tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia il tuo spirito ci renda docili alla tua parola e ci donne gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli ecco concludiamo allora questo incontro anche se i versetti erano pochi è stata abbastanza veloce no? siete stanchi? assolutamente no ringraziamo il Signore che anche attraverso questi pochi versetti ci rivela la bellezza no? della relazione di un Dio che continuamente ci invita a entrare nella sua vigna ci predispone a entrare nella sua vigna e godere gioire ecco di questo mosto dolce tra poco che sentiremo nell'aria l'odore ecco del mosto della pigiatura del lù questo è il tempo della della vendemmia si chiama la gioia no? il canto che la natura stessa eleva a Dio perché genera la vita oppure che tutti quanti noi in questo tempo non ci perdiamo non ci smarriamo dietro di meandre di tutta questa regola del covid o il resto viviamo nella serenità se il nostro governatore oggi ci ha dato l'impegno di portare la mascherina entriamo in questa obbedienza di tutela degli altri usando quando è più possibile ecco la mascherina poi affidandoci anche al Signore volete voi che il nostro Dio in questo momento delicato particolare ci abbandoni non penso proprio e ancora una volta rivolgiamoci alla Vergine Maria l'icona della Chiesa della Vigna l'icona della Vigna perché possa accogliere ecco i nostri desideri e in gole di più possa accogliere tutti quanti noi perché come lei sappiamo professare la nostra fede in un Dio che ci ama ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora che il Signore sia con voi e benedica Dio onipotente Padre Figlio e Spirito Santo benediciamo il Signore come sempre un caro abbraccio a tutti quanti voi che ci seguite via web un abbraccio virtuale ma anche per voi buonasera e buona domenica a tutti quanti o che ci seguite o che ci seguite a tutti quanti o che ci seguite Grazie.